Bevete almeno 8 bicchieri d'acqua al giorno? Salve, sono Luigi Gratton, vicepresidente per la formazione nutrizionale Herbalife e l'argomento di questa settimana è più importante di quanto possiate immaginare. Oggi parleremo di acqua e di liquidi. Nonostante l'acqua sia fondamentale per l'uomo, spesso non ne beviamo abbastanza. Bere tanta acqua è estremamente importante ai fini del controllo del peso e di una dieta nutriente. L'acqua svolge un ruolo essenziale nel processo di trasformazione dei nutrienti, aiuta a mantenere una normale circolazione sanguigna e a ristabilire l'equilibrio dei liquidi. Ma quanta acqua bisogna bere? Come regola generale è consigliabile bere quotidianamente da 6 a 8 bicchieri d'acqua da 240 millilitri circa. Se svolgete attività fisica dovete berne di più per reintegrare i liquidi persi con la sudorazione. Dopo ogni mezz'ora di allenamento bevete due bicchieri da 240 millilitri per reintegrare i liquidi del corpo. Portate con voi una borraccia d'acqua per mantenervi idratati durante gli allenamenti. Tenete presente che soft drink e succhi di frutta per il loro contenuto elevato di calorie non sono molto indicati per reintegrare i liquidi perduti. Potete però aggiungere qualche goccia di succo di frutta o una fittina di limone per dare un po' di sapore all'acqua semplice. Nella scelta delle bevande da usare un ottimo criterio è leggere le informazioni nutrizionali in etichetta. Per esempio le bebite gassate o i drink alla frutta spesso abbondano di zuccheri e calorie e contengono pochi nutrienti. Scegliete drink con meno di 100 calorie ogni 240 millilitri. Non vorrete mica riacquistare con pochi sorsi tutte le calorie che avete appena bruciato sul tapirulano. Se in cima all'elenco degli ingredienti vedete lo sciroppo di mais che è ricco di fruttosio passate oltre. Ora forse vi sorprenderà ma un po' di carboidrati nelle bevande possono essere una cosa positiva perché aiutano a mantenere stabili gli zuccheri nel sangue durante l'esercizio. Infine è bene dare un'occhiata agli elettroliti riportati in etichetta. Con l'aumentare di durata e intensità dell'esercizio è importante reintegrare sali minerali come il sodio e il potassio perché vengono persi con la sudorazione. Dovete tenere presente che il corpo può disidratarsi prima ancora che compaia lo stimolo della sete. Questo è uno dei motivi per cui gli atleti sono abituati a bere secondo tempi prestabiliti. Bisognerebbe bere due tazze da 240 millilitri di liquidi due ore prima dell'esercizio e un'altra tazza sempre da 240 millilitri 10-20 minuti prima di cominciare. Inoltre 50 millilitri circa ogni 15 minuti durante l'attività possono evitare un calo eccessivo di liquidi. Imparate a riconoscere i sintomi della disidratazione durante l'esercizio come crampi muscolari, sensazione di stordimento o spossatezza. Se cercate un'alternativa sana alla semplice acqua, le bevande isotoniche H3O Pro e Hydrate della linea Herbalife 24 potrebbero essere un'ottima scelta perché contengono la giusta quantità di carboidrati a rapido assorbimento, non contengono caffeina e apportano gli elettroliti essenziali che si perdono con la traspirazione. Preparate in polvere che si sciolgono facilmente nell'acqua e sono disponibili in pratiche bustine monodose da tenere in tasca o in borsa per essere sciolte in qualsiasi momento in una borraccia d'acqua. Se volete maggiori informazioni su come i prodotti Herbalife possono favorire un'adeguata idratazione, rivolgetevi al vostro personal coach del benessere. Termina qui la discussione di questa settimana. Io sono Luigi Gratton e desidero ricordarvi che un adeguato apporto di liquidi è importante per il funzionamento ottimale dell'organismo.